Pochi giorni fa è stato l'anniversario della morte o meglio della salita al cospetto di Dio di padre Carlo Colonna, un gesuita di cui io avevo grande stima, nonostante fosse gesuita. Di padre Colonna abbiamo pubblicato più di un libro interessante, ma sono andato a riprendere in mano questo libro Certamente risorgeremo, che lui ha scritto quando ormai era già gravemente ammalato e di Lía non molto è anche morto per questa malattia, questo tumore che aveva. Ed è stato davvero il suo testamento spirituale sulla risurrezione della carne e la pienezza della vita eterna, un libro che attesta la sua fede, la sua fiducia in Dio nella vita eterna nel momento della più grande crisi che poi lo ha portato alla tomba. C'è un capitolo che mi ha colpito perché parla alla nostra vita oggi, dove commentando la risurrezione dei santi nel libro profetico dell'Apocalisse, padre Carlo Colonna scrive questo, dice che Gesù è il primo martire, dice il mondo rifiuta i figli di Dio fino a perseguetarli e a metterli a morte, rivestendo la sua iniquità di parvenza di giustizia. È sempre stato così, in particolare lo è stato con Gesù, ma anche con tutti i martiri, tutti i santi, è avvenuto così, con i profeti, che sono stati perseguitati dall'autorità religiosa o politica sotto parvenza di giustizia. La condanna nei confronti di nostro Signore Gesù Cristo è avvenuta da parte del sommo sacerdote del suo tempo, con la complicità dell'impero romano. Il maligno, che domina i suoi collaboratori terreni, re, giudici, profeti, religiosi falsi e iniqui, e per mezzo loro intere masse umane, ha la sua ora di vittoria, ma proprio nel momento del suo apparente trionfo entra nella storia con potenza lo Spirito di Dio, col compito di ribaltare la sentenza di ingiusta condanna alla morte, di ristabilire la giustizia, di innalzare l'innocenza di Cristo e dei suoi martiri, di farli trionfare sui loro nemici, di annunziare la condanna di quanti si sono schierati da parte del mondo delle tenebre. È l'ora del trionfo della giustizia di Dio. Vedete, queste cose a volte scaldano il cuore, pensano, eh, verrà il momento anche del nostro riscatto, quando finalmente saremo riconosciuti, chi si sente quantomeno un profeta, chi si sente perseguitato, eccetera, eccetera. Ma anche questo c'è una tentazione e un inganno, che è quello di sperare in una vittoria umana. Gliela faremo pagare a questi sciagurati. Cosa avrebbe potuto dire in quest'ottica Gesù? Ah, te la farò pagare, Caifa, Anna, Pilato e tutti questi traditori, questi leviti, dottori della legge, eccetera. Ma Gesù non ha fatto queste promesse di vendetta e non ha promesso questa giustizia tutta terrena. Fermiamoci un secondo. È vero che di lì a 40 anni la giustizia è arrivata, perché sono arrivate le truppe dell'impero romano che hanno demolito il Tempio in cui il popolo di Israele confidava e i suoi sommi sacerdoti hanno sterminato migliaia di persone e li hanno umiliati fino ad ora, perché fino ad oggi il Tempio di Israele non c'è più. Però non è questa l'ottica di Dio. E continua, di fatti, qui padre Carlo, dicendo questa però, il trionfo della giustizia di Dio, si manifesta misericordiosa verso i nemici della fede, perché Cristo e i martiri hanno pregato per i loro persecutori. A me piace, mi interessa questo testo, perché parla dell'oggi, parla anche della nostra vita cristiana oggi, che vediamo purtroppo spesso dei malvagi anche all'interno della Chiesa che salgono e dei santi che vengono umiliati, degradati, messi da parte. Pensiamo solamente a padre Pio, quante gliene hanno fatte passare, quante umiliazioni, quante sentenze ingiuste contro di lui, anche fin dal sommo soglie, perché fu Giovanni XXIII che lo perseguitò, diciamo la verità. E la santità di padre Pio è venuta fuori molto dopo, insomma, il popolo già la capiva, ma le autorità ecclesiastiche non volevano capirla. La preghiera quindi di misericordia nei confronti dei nemici che ha avuto Gesù dà spazio a un tempo di pentimento che Dio concede loro, perché si ravvedano dai loro peccati e possano riconciliarsi con Dio. Oggi, diciamo la verità, uno dei grandi strumenti di persecuzione anticristica nei confronti della vera fede è all'interno della stessa Chiesa, non solamente della Chiesa Cattolica, ma delle Chiese, perché questo è un fenomeno che non c'è solamente nella Chiesa Cattolica, ma anche in tutte le varie frammentazioni del mondo protestante, evangelico. Anche lì si perseguitano quelli che hanno un tono o dei contenuti davvero profetici. Vengono messi da parte, gli si tolgono le cattere di insegnamento, gli si estromette dalle parrocchie o dalle assemblee protestanti che siano. Insomma, la persecuzione anticristica viene fatta, come è stato al tempo di Gesù Cristo, che è stata fatta dal Papa del tempo, il Papa Everemo del tempo, che era Sommo Sacerdote, il Caifa, viene fatta all'interno delle Chiese. Certamente anche il mondo, il mondo anticristiano, fa la sua parte, pensate solamente ai paesi musulmani che sterminano i cristiani man salva, pensate ai paesi comunisti come la Cina, la Corea, il Venezuela, il Messico, eccetera, che perseguitano e ammazzano i cristiani, senza dubbio. Ma voi capite bene che è molto più duro da sopportare di venire perseguitati e marginati da colei che ti ha dato la vita, cioè la nostra madre, la Chiesa stessa. Eppure, vedete, i Santi pregano per i loro persecutori. Gesù ha pregato per i suoi persecutori, li ha scusati, li ha perdonati, il Padre perdona loro perché non sanno quello che fanno, e gli dà il tempo per pentirsi, perché si ravvedono ai loro peccati e possono riconciliarsi con Dio. L'invito al pentimento e il perdono, dato a quanti accolgono l'invito, però non equivale a una amnistia generale. Perché, vedete, dal mio animo scaturisce un desiderio di giustizia quando vedo che ci sono Vescovi, Cardinali, che dicono e fanno delle cose per cui in tempi migliori, che so, cent'anni fa, li avrebbero immediatamente scardinalati, li avrebbero immediatamente ridotti allo stato laicale. Invece oggi, nella misura in cui dicono queste bestialità e le fanno e insegnano delle eresie, scalano le scale della gerarchia ecclesiastica. Viene in mente allora quando Gesù dice che il grano e la zizzania devono crescere insieme, non bisogna avere fretta di strappare la zizzania perché si rischia di strappare anche il buon grano. Viene da pensare che, purtroppo, dentro le varie chiese, invece l'altra parte ha una enorme fretta di strappare il grano perché cresca solamente la zizzania. Ma, d'altra parte, quelli sono i loro metodi. Ma qui, rifacendoci all'Apocalisse, padre Carlo Colonna dice che l'invito al pentimento, il perdono, la pazienza che Dio ha e la preghiera per questi persecutori ecclesiastici non equivale a una amnistia generale. E io aggiungerei che non equivale neanche a una promozione. Ma questo lasciamolo perdere. La giustizia di Dio, continua, esige perentoriamente il pentimento e il ravvedimento sincero delle proprie colpe, altrimenti darà seguito al giusto castigo meritato per la persecuzione e morte dei santi di Dio. Io non vorrei trovarmi nella pelle di quelli che hanno perseguitato padre Pio, che hanno perseguitato e perseguitano oggi altre realtà fiorenti nella Chiesa che sono state distrutte dalle autorità ecclesiastiche. Non vorrei trovarmi nella loro pelle davanti al giudizio di Dio. Ma siccome questa parola parla a me, parla a te, dobbiamo guardare anche noi. Qual è il mio atteggiamento nei confronti di chi fa questo male? È di rivincita, il desiderio di vendetta? O è rimettere davvero la giustizia nelle mani di Dio e pregare per i nostri persecutori? Grazie a tutti.